un altro video dedicato al campeggio oggi vedremo come muovere il carrello tenda con estrema facilità in box ma prima vediamo il regalo dei miei genitori stampata da matteo grazie è bellissima grazie innanzitutto bisogna procurarsi dei carrellini sotto ruota questo è il carrellino dobbiamo alzare il carrello e mettere i carrellini sotto le ruote non ci passa nessun problema ragazzi c'è sempre una soluzione gonfiamo anche le ruote pressione a 3,5 grazie a tutti ben fatto ragazzi facile vero ciao ragazzi ciao 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 ciao